Mister, il calcio sappiamo essere crudele, tu lo sai più di tutti perché io leggo i numeri, 12 tiri totali, 7 occasioni da gol, 3 tiri nello specchio della porta, poi alla fine forse anche per la voglia sana di andarla a vincere la perdiamo un po' da polli come dicevi. Eh pollacchiotti non polli, proprio pollacchiotti che è peggio, credo che perdere così fa male, ti lascia la bocca tanto amara ma io sono convinto di quello che predico da giorno 1, sono più quelle che vinci che quelle che non vinci con un atteggiamento sano, c'è da lavorare, le sconfitte ti aiutano a vincere perché capisci cosa puoi far meglio e oggi noi abbiamo avuto una dura lezione nel capire cosa va fatto meglio, male che va da 0 a 0. Abbiamo visto comunque un udinese come dicevi anche tu che ci ha provato contro un avversario che per larghi tratti è stato lì, ha praticamente rinunciato, che ha fatto tanto più che per farla che per sporcare la partita dell'udinese. Era la partita che noi ci aspettavamo, loro l'hanno giocata esattamente come l'avevamo preparata, noi l'abbiamo giocata esattamente come l'avevamo preparata e poi potevamo essere più puliti sotto porta, sì, potevamo stare un po' attenti in determinate situazioni, sì. Io onestamente non so cosa dire ragazzi, l'unica cosa che analizzeremo sono quei 15 secondi finali dove potevano essere fatte due o tre cose meglio e si riparte, ti ho detto prima, chi non sa perdere non sa nemmeno vincere, la sconfitta è grande maestra quindi dobbiamo prenderla con serenità e mettercela alle spalle perché abituarsi a vincere è bello, abituarsi a vincere è una malattia che ci teniamo stretta. Ti chiedo anche quanto hai visto delusi un po' i ragazzi, perché immagino che sia dura, per te come anche per loro, rientra una partita persa così, anche Samarzic, un po' tutti erano molto molto abbattuti anche per come è arrivata l'azione del gol e legandomi a questo ti chiedo anche se ti aspetti anche una bella reazione di quella sana rabbia a Bologna, se può essere un vantaggio che si rigioca subito in tal senso. Guarda, dopo tre scontri diretti vinti di volontà, di determinazione, uno scivolone, faccio fatica a dirlo ma ci può stare, nel senso che non ci deve stare ma non ce la faccio a dirlo, non possiamo accettarlo. Non possiamo accettarlo ma ai ragazzi, onestamente faccio fatica a dirgli cosa poteva essere fatto meglio se non nei 15 secondi finali.